Una scelta scellerata, quella del Governo regionale di Marsilio e di Fratelli d'Italia di bocciare il nostro documento venendo in soccorso come al solito al Governo Meloni. La richiesta di Consiglio straordinario nasceva dopo che un decreto legge aveva bloccato rispetto al 110 tutte le iniziative nel comparto edilizio in campo e da questo punto di vista aveva gettato nello sconcerto e nello sconforto migliaia di cittadini, migliaia di imprese tuttora è così, noi volevamo in qualche modo dare un contributo a che la Regione anche dato il rapporto tra Marsilio e Meloni facesse di tutto per modificare il decreto legge che aveva appunto bloccato l'intero comparto. Da questo punto di vista registriamo due aspetti il primo che il rapporto tra il Presidente della Regione Marsilio e il Presidente del Consiglio Meloni non è proficuo né per la nostra Regione né per gli atti che producono dato che la mano destra non sa cosa fa quella sinistra. Il Governo regionale ha prodotto, licenziato un disegno di legge che poi a sua volta è stato bloccato 12 ore dopo dal decreto legge del Consiglio dei Ministri. In secondo luogo ancora una volta Marsilio decide di essere il militante, l'iscritto di un partito, la vicinanza a Meloni dice tutto e non decide di essere invece il Presidente degli Abruzzesi. Ecco, la bocciatura purtroppo ancora una volta ci dice che tra la scelta dell'essere l'uomo di Fratelli d'Italia e il Presidente della Regione Marsilio sceglie ancora una volta di essere l'uomo di Fratelli d'Italia.